Ciao a tutti, io mi chiamo Marco Rubatto, sono un praticante ed un insegnante di Aikido e quest'oggi vorrei parlarvi di una nuova interessante iniziativa che riguarda questa disciplina. Si tratta di un nuovo formato di evento che ho chiamato Aikido Workshop. Permettetevi che vi illustri brevemente di cosa si tratta. Mi curerò di dirigere in alcune città italiane una sorta di seminar caratterizzato però da alcune importanti novità che si armonizzano in pieno con le attuali nuove e molteplici esigenze di praticanti ed insegnanti di Aikido. Durante questi tre giorni ci sarà spazio per alcune sessioni di lavoro teorico nelle quali esploreremo insieme la cultura e la tradizione nelle quali l'Aikido è nato e si è sviluppato. Ci sarà però anche tempo di esaminare diverse proposte tecniche e didattiche. Si praticherà molto quindi anche fisicamente come molti di noi sono già abituati a fare. L'Aikido Workshop però vuole essere sensibile a tutti quegli aspetti che riguardano a 360 gradi il mondo della nostra disciplina. Per questa ragione sarà riservata una sessione specifica ai più giovani e dalle didattiche più adatte a loro così come verrà dato spazio agli insegnanti, ai responsabili di dojo e da tutti coloro che vogliono calzare al meglio questi affascinanti ruoli. Ci soffermeremo parecchio sui principi dell'Aikido ma avremo anche il coraggio di esplorare le prospettive con le quali pratichiamo sul tatami. In buona sostanza ci chiederemo insieme quali sono le ragioni più importanti che muovono la nostra passione, le principali problematiche che incontriamo così come le aspettative nel nostro futuro da Aikidoka. Un evento quindi veramente completo e poliedrico ma caratterizzato soprattutto dal confronto e dall'ascolto delle esigenze specifiche di tutti i suoi partecipanti. Ogni Aikido Workshop pur portendo da basi comuni sarà quindi reso unico da chi vi parteciperà. Il mio obiettivo è infatti quello di offrire spunti di lavoro e riflessioni che risultino nutrienti sia per i neofiti che per i praticanti d'esperienza, favorendo l'incontro e il confronto di mondi, stili, scuole e differenti, così da apprendere al meglio ed arricchirci dalla condivisione dell'esperienza. La partecipazione agli Aikido Workshop si preannuncia essere così un'esperienza completa e forse anche impegnativa ma sicuramente in grado di offrire molto a tutti coloro che vorranno far tesoro di questa opportunità. Spero di incontrarvi in molti sul tatami qui. Grazie per l'attenzione e a presto.